andrò a misurare tutto il tuo viso alza le sopracciglia ciao ciao grazie di essere qui con me oggi oggi voglio prendere le misure del tuo viso con un po' di attrezzi e anche le misure del collo delle braccia in generale prendono un po' di tue misure quindi secondo me ti rilasserei molto perché ci saranno tantissimi visual trigger tantissime conte quindi 6 7 8 9 e anche se sei nella scrittura e se questo video ti piacerà ricorda di mettere un bel mi piace e dirmi nei commenti che cosa in particolare ti è piaciuto e non metto l'ora di leggere il tuo commento io metto sempre i cuoricini perché li leggo sempre cominciamo subito con il mitro classico cominciamo subito con il mitro classico ok ok e comincerò a prendere delle misure generali quindi comincio ok col prendere le misure del tuo viso in modo generale per farmi un'idea ok adesso ti passo il metro dietro ok lasciami vedere qui dopo il metto il metto il metto il metto il metto il metto più fino c'è semplicità adesso vado anche in alto e in basso sopra e sopra la testa quindi vado a vedere qui anche 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok adesso mi apri un attimo come controllare? 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 perfetto lasciami segnare tutto e e e allora abbiamo detto da dall'alto al basso 3, 4, 5, 6, 7 8 da destra a sinistra vado a vedere perfetto perfetto adesso mi segno un attimo quello che devo fare ora allora allora con 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 l'alto viso girato e profilo perfetto adesso adesso ti chiedo di girarti un attimino di lato ok e aspetta attimo lasciamo prendere qui ok aspetta un attimo di lato ok benissimo adesso un attimo dall'altra parte e fammi prendere intanto la curvatura dalle tempie vado ok e anche qui vado 5 4 3 2 3 5 sposto per la testa e adesso ti chiedo di portarlo un attimo in alto in modo che io possa misurare l'estensione del collo ok molto bene ancora un po' perfetto perfetto eccoci qua eccoci qua wow è veramente incredibile è veramente incredibile dovresti essere una persona molto flessibile aspetta 1 2 3 4 ok abbassa abbassa pure la testa e abbassala ancora un po' un po' un po' un po' un po' perfetto e adesso di nuovo e adesso di nuovo ok perfetto per ora per ora con questo metro abbiamo finito perché in realtà tutti i connotati del viso li misureremo con altri strumenti perfetto perfetto io partirei dagli occhi ho questi occhiali speciali che mi servono appunto per misurare tutte le zone intorno agli occhi quindi ti faccio vedere allora qui si muove anche qui qui posso decidere come appoggiarli quindi io andrò a muovere tutte queste rotelline intorno ai tuoi occhi per misurare per misurare la zona dell'occhiaio la profondità dell'occhiaio l'altezza e lunghezza degli occhi tutto ok quindi vado a farteli indossare molto bene e adesso vado vado allora a spostare la rotellina allora centocinquanta centosessanta centosessanta centosessantacinque settantacinque sessanta quarantacinque ti faccio vedere ti faccio vedere sepposti qui a fumo tutta la lunghezza dell'occhio e invece questa qui la pupilla aspettai e qui tutta la lunghezza dell'occhio la profondità ok te li facendo stare molto vicini aspetta fammi vedere qua ok e fammi vedere qua perfetto lo so sono veramente molto particolari questi occhioli molto molto lasciami segnare tutto la pelle destra l'arri 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 lunga l'arri provo il dettaglio il santo tre virgoli tre uno tre otto virgoli sei fammi fare due calcoli veloci tre bene bene ok più ok vuoi sapere che occhio o se hai un occhio più grande dell'altro? allora questo occhio più grande di questo ed è anche un pochino più largo e lungo ma si parla di veramente nulla mentre la pupilla è leggermente più grande di questa ma sono cose che a occhio nudo così senza misurazioni non otterresti mai anche io ho quest'occhio più grande di questo non non succede nulla è normale siamo siamo esseri asimmetrici adesso prendo questo pettine andrò a misurare tutto il tuo viso contando quanti dentini sarà ciascuna sezione ok? quindi andiamo a contare tutto il viso ok? uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciassette andiamo a misurare la lunghezza uno due quattro cinque sei sette otto nove dieci direi nove e mezzo nove punto cinque andiamo adesso a misurare le sopracciglia allora abbiamo uno due tre tre e mezzo da una parte e uno due tre un quarto dell'altra ok il naso un due quattro due tre quattro due prollypi tra il naso e il mento tra il naso e le orecchie abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto tra il naso e l'altro orecchio uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto un po' di otto sotto uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e adesso misuriamo anche la mascella qui era diciassette qui potrebbe essere di meno, di più dipende ok, quindi uno, due, tre quattro, cinque, sei, sette otto, nove, dieci quattro, quindici ok è leggermente più piccolo va assegnandomi tutto allora che avevamo detto da lato da lato a lato macella quanti erano quattori quattordici dentini dal dal naso a orecchio destro dal naso a orecchio sinistro 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 so braccio piccolo sinistro piccolo venticinque fronte ok perfetto andrei giusto a fare qualche misurazione giusto dell'ampiezza delle delle braccia anche davanti ok queste cose qui per cui serve un metro un po' speciale io ho questo ok quindi ti chiedo di allargare le braccia il più possibile come se dovessi toccare qualcosa sia da un lato che dall'altro ok 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 abbiamo allora 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 162 centimetri adesso misuriamo di un braccio solo quindi allunga questo ok, 63 centimetri e andiamo con l'altro ok, allunga bene aspetta 62 andiamo un attimo anche col tronco ok 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 la lunghezza anche aspetta dei capelli ok dell'avranza ok perfetto e anche della tua altezza quindi partiamo da qui ok 1,68 ti risulta giusto? ok ok vado un attimo a segnalarmi anche questi altra altrazza 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 centimetri altrazza 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 vorrei usare questo metro che è molto 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 specifico e molto preciso per prendere altre misure sul tuo viso un attimo per confermarle ok quindi un occhio un occhio un occhio la fronte le labbra apre la bocca il più possibile ok ok confia le guance confia il naso un po' tipo alza le sopracciglia alza le sopracciglia il collo dall'alto fino al petto dal petto fino al naso ancora 2,3 misurazioni ok io direi che ci siamo spero davvero che questa piccola seduta per prendere tutte le tue misure ti abbia rilassato e dimmi se ne vorresti un'altra magari in cui contiamo anche i battiti la pressione quanti secondi riesci a stare con gli occhi chiusi con gli occhi aperti senza spatterli dimmi se vorresti anche qualcosa del genere io ti mando un bacione un abbraccio ciao che rispera ciao 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 Grazie a tutti.